buonasera ragazzi buonasera ragazzi quest'oggi novità assoluta novità assoluta quest'oggi il pagellone di fine stagione in cosa consiste molto semplice praticamente dall'ultima alla prima non si farà altro che dare un voto alla prestazione alla stagione diciamo di queste delle 20 formazioni di serie a partendo appunto dall'ultima allora allora prima cosa da dire mi piacerebbe moltissimo che nei commenti scriveste la vostra la vostra opinione scriveste il vostro personale voto in relazione ad ogni ad ogni ad ogni squadra o a quelle che volete voi a quelle che ti fate voi insomma l'unico voto che avrà potrebbe cambiare è quello è quello della roma perché in base all'esito della finale il voto cambierà infatti la roma alla roma darò due voti non uno allora iniziamo subito iniziamo subito e qua come si dice in veneto e il suo e magna e ore cioè praticamente facciamo facciamo note se andiamo avanti ancora dire cazzate allora prima prima squadra in esame venezia allora tra le retrocesse tra le retrocesse il venezia è quello che mi è piaciuto di più gli do un cinque e mezzo ovviamente non posso dargli la sufficienza perché una squadra retrocesa non merita la sufficienza però un progetto un progetto interessante un sacco di giovani un sacco di giocatori provenienti dall mls una bella presidenza un bel progetto un bel progetto mi è piaciuta ho visto anche parecchie partite del venezia quindi da veneto da veneto do un cinque e mezzo ma comunque indipendentemente dal patriottismo è comunque stata una squadra che mi è che mi è che mi è piaciuta poi diciannovesima posizione genoa ecco il genoa al genoa do 3 do 3 perché è la classica squadra che era ora che retrocedesse parliamoci chiaro era ora che retrocedesse perché erano anni che navigava sempre nelle ultime nelle ultime posizioni si è salvata per il rotto della cuffia in un sacco di occasioni ed era arrivato il momento di vederla di vederla in b di vederla in b probabilmente al genoa farà bene un ritorno in b perché comunque adesso anche loro hanno una nuova proprietà ed è giusto che ripartano che ripartano da là con nuovo entusiasmo naturalmente mi auguro di vederla in serie a il prima il prima possibile terz'ultima terz'ultima o diciottesima squadra cagliari ecco anche al cagliari do un bel 3 perché se a differenza allora a differenza del genoa la situazione del cagliari è molto più brutta a mio avviso è molto più brutta per un semplice motivo perché se il genoa si è tra virgolette come come una donna sposata si è lasciato andare negli anni il cagliari invece negli ultimi 2-3 anni ha speso una montagna di soldi ha speso una montagna di soldi ma li ha spesi talmente male che ha passato l'anno scorso a rischio retrocessione e quest'anno è andato addirittura in b cioè le parole di giulini ieri sera a sky sono state emblematiche sono state emblematiche si attaccava a tutto si incazzava con tutti cioè proprio la frustrazione di una gestione completamente completamente fallimentare completamente fallimentare gli don 3 ma avrei potuto dare anche un 2 allora salernitana salernitana 9 e mezzo allora la salernitana a mio avviso è il miracolo del campionato è il miracolo della stagione della stagione 21 22 senza dubbio senza dubbio cioè ricordiamoci che la salernitana era ultima ma non ultima era la squadra eminflex del campionato cioè una squadra che nel girone di andata era praticamente già già retrocessa era praticamente già retrocessa ha avuto le palle ha avuto le palle di fare una cosa che poche altre squadre poche altre squadre fanno o quanto meno molte squadre fanno ma poche ci riescono ha cambiato tutto allora ha cambiato la proprietà ma quello era ovvio che lo facesse per via del problema del problema lottito iervolino si è preso sabatini che comunque è un vecchio volpone che sa perfettamente sa perfettamente il fatto suo e si è visto ha fatto degli acquisti mirati degli acquisti giusti e poi hanno preso nicola nicola è stato l'anello l'anello più importante della catena che ha portato alla salvezza della salernitana cioè io se fossi se fossi iervolino cioè prenderei lo stadio lo chiamerei san nicola come come quello di bari perché effettivamente ciò che ha fatto davide nicola è qualcosa di strepitoso qualcosa di 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 allucinante di allucinante una bellissima favola una bellissima favola sono veramente contento per la salernitana che si prende uno dei voti più alti di questo di questo pagellone perché se lo merita tutto se lo merita tutto ciò che ha fatto la salernitana in regione di ritorno addirittura era tra le prime in classifica c'è qualcosa di pazzesco qualcosa di pazzesco nove e mezzo alla salernitana spezia voto 7 voto 7 perché anche qui una squadra che aveva ben poco da dire con un allenatore tiago motta che dai molti era definito un cialtrone che invece è riuscito a portare a portare lo spezia alla salvezza e a una salvezza anche abbastanza tranquilla perché la salvezza dello spezia è matematica già da qualche già da qualche da qualche da qualche giornata ed è molto bello tutto questo molto bello perché si sta costruendo una nuova generazione di allenatori tra i quali tiago motta è sicuramente uno dei uno dei dei profili più più interessanti uno dei profili più interessanti e sono contento anche da interista perché è un vecchio cuore nero azzurro e mi fa molto piacere per teone motta assolutamente samp doria samp doria voto sei e mezzo sei e mezzo sei più stagione senza nessuna infamia e senza nessuna lode ovviamente perché comunque è una salvezza tranquilla 36 punti ha fatto quello che avrebbe dovuto fare che avrebbe dovuto fare il genoa possiamo dire che è l'unica squadra in cui il buon giampaolo riesce a combinare qualcosa di positivo senza fare danni incredibili un sei e mezzo non glielo toglie nessuno empoli empoli grande stagione dell'empoli ricordiamoci che l'empoli è una neopromossa quindi grandissima stagione dell'empoli 41 punti salvezza veramente tranquilla ottima squadra andrea zoli grandissimo grandissimo allenatore un ottimo attacco e hanno messo sotto molte volte anche compagini di blasone maggiore la cosiddetta ammazza grandi assieme al sassuolo molto bene molto bene l'empoli un sette pieno un sette pieno all'empoli bologna maledetti bologna maledetti allora maledetti di nuovo e di nuovo maledetti allora e il bologna al bologna non gli si può dare altro che un sette metà classifica 46 punti è una di quelle squadre che che bazzica sempre lì sono svariati anni che non è mai vicina alla zona europa ed è sufficientemente distante dalla zona retrocessione quindi è una squadra che fondamentalmente ha trovato la sua dimensione nella nella metà classifica e anche qua c'è una bella storia c'è la storia di mi ha il vice malato che dirige gli allenamenti all'ospedale che entra in campo distrutto e fa fa bene al calcio fa bene fanno bene al calcio queste queste immagini quindi bravo bologna bravo bologna se non vincevi con noi non ti sarebbe cambiato niente perché da 46 punti saresti andato a 43 e ti saresti salvato comunque ma comunque ci hai fatto perdere lo scudetto cazzate l'abbiamo perso noi lo scudetto l'abbiamo perso noi e quel fenomeno di iono trado vabbè non importa allora udinese posizione numero 12 posizione numero 12 udinese io qua sparo un 7 un 7 e mezzo perché comunque una dodicesima posizione udinese con un attacco migliore se non erro vediamo sì migliore rispetto a quello della juve è tanta roba ragazzi è tanta roba hanno concluso con un sonoro 4 a 0 hanno giocato bene fino alla fine la salvezza non è mai stato un problema perché ricordiamoci che questi hanno chiuso con 47 punti che è tanto di cappello l'udinese è la classica squadra che non arriverà mai in alto cioè è arrivata in passato ma con la gestione con l'ultima gestione pozzo non non avrà mai la possibilità di arrivare in europa a meno che non imbrocchi proprio la stagione la stagione perfetta è una squadra che vende benissimo e compra benissimo è una società molto molto sana che dovrebbe essere un modello per molte per molte altre per molte altre società a mio modesto modestissimo parere sassuolo 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 undicesima posizione 50 punti un bel sassuolo un bel sassuolo anche quest'anno un bel sassuolo anche quest'anno che si mette in metà classifica ha rotto le palle a tanti anche a squadre molto più più bella zonate un un bel attacco che dire un'ottima stagione un'ottima stagione per il per il sassuolo anche qui un 7 e mezzo come all'udinese non glielo toglie non glielo toglie nessuno arriviamo alla posizione numero 10 torino allora qui il discorso è molto semplice io qui al torino do un otto allora molti potranno dire che è un voto esagerato però però dobbiamo ricordarci cosa è stato il torino negli ultimi anni una squadra che bazzicava nelle parti meno nobili della classifica ma ci bazzicava anche in maniera pericolosa perché ha rischiato anche svariate volte di retrocedere c'è una decima posizione del torino è un mini capolavoro che ha fatto juric juric è un grandissimo un grandissimo allenatore quando si parlava del post conte si era fatto anche il nome di juric e sinceramente a me sarebbe andato anche molto bene poi bisogna vedere se juric è un allenatore da grande squadra o è un allenatore da squadra metà classifica da torino da verona bisogna capire quello però comunque tanto di cappello ha riportato il torino ad una posizione ben più dignitosa di quella che aveva che aveva negli anni negli anni precedenti un bell'otto verona non a posizione otto e mezzo e qui ragazzi è stato fatto qualcosa di molto importante ricordiamoci che il verona il verona veniva dalla gestione juric che come ho detto col torino è un grandissimo un grandissimo allenatore il rischio di patatrac del verona quest'anno era altissimo perché perdere un allenatore come juric non è una cosa piacevole io allo spacca bottiglia igor tudor non avrei dato una lira ve lo dico proprio in totale in totale sincerità non gli avrei dato una lira non gli avrei dato una lira e invece si è dimostrato un grandissimo un grandissimo un grandissimo allenatore tanto che notizia di oggi di radio sportiva poi deve essere deve essere confermata sembra che l'anno prossimo vada ad allenare in turchia al garata sarai ma questa è un'anticipazione che non non ho verificato o meno l'ho sentita la radio magari è così magari no numero 8 atalanta all'atalanta gli do un bel 4 gli do un bel 4 perché un atalanta fuori dalle posizioni europee io sinceramente non me l'aspettavo non me l'aspettavo che sia o meno finito il ciclo di gasperini non lo so ma sembra proprio di sì sembra proprio di sì cioè l'atalanta ha perso una quantità allucinante di partite io vedo qua sulla classifica che che ho davanti cioè delle ultime cinque ha fatto due una vittoria due sconfitte e due pareggi ma la quantità di di partite perse in maniera anche banale in maniera non da atalanta un rendimento in casa terribile cioè veramente un un campionato dell'atalanta assolutamente inspiegabile inspiegabile l'unica spiegazione secondo me è il fatto che possa essere effettivamente possa essere effettivamente finito finito un ciclo vediamo come va col mercato perché se gasperini rimane vuol dire che vuol dire che ha ancora qualche asso nella manica se non rimane vuol dire che la favola dell'atalanta è arrivata è arrivata alla conclusione è arrivata alla conclusione ok adesso andiamo nella zona un po più nella zona un po più spesso qua è discorso un attimo solo ok nella zona nobile allora dal settimo al primo allora fiorentina settima posizione anche qua otto e mezzo non glielo togli nessuno 8 e mezzo non glielo togli nessuno ricordiamoci che la fiorentina l'anno scorso lottava per non retrocedere quest'anno arriva settima e va in europa in europa il merito di questo di chi è aspetta aspetta un attimo va in europa dopo aver perso a gennaio lucian blaovic che dite quello che volete ma è una perdita è una perdita allucinante lucian blaovic è una perdita allucinante perché perdi il capo cannoniere il capo cannoniere del campionato il censo italiano ha fatto qualcosa di veramente di veramente ottimo ottimo stagione ottima della della fiorentina stagione ottima e vi dico la verità se questa squadra non avesse avuto le svariate amnesie che ha avuto durante durante la stagione secondo me poteva arrivare tranquillamente anche quinta o sesta o insidiare addirittura la juventus in quarta posizione però andremo a vedere il prossimo anno se saprà se saprà confermarsi posizione numero 6 roma allora qui e io a murigno gli do gli do un bel 7 perché comunque ha fatto meglio dell'anno prima ha fatto meglio di fonseca e si è guadagnato una finale europea che non sono mica cazzi parlando in francese una finale europea che potrebbe anche vincere ovviamente se ovviamente se murigno riesce a portarsi a casa anche la finale di conference se portasse a casa anche la cupa è ovvio che il voto da 7 va abbondantemente più in alto si parla di un otto e mezzo se non nove perché vincere qualcosa alla roma ragazzi non è da tutti non è da secondo me lazio quinta posizione non male non male possiamo dare un 7 anche anche a sarri molto criticato molto bistrattato comunque il suo quinto posto se l'è portato a casa se andiamo a guardare i numeri freddi alla fine non ha fatto neanche una stagione pessima in europa è uscito male e questo si sa però comunque le squadre italiane ragazzi lasciano il tempo che trovano in europa non possiamo pretendere più di tanto per quello dico che murigno ha fatto una gran cosa ha fatto una gran cosa niente io qua gli do gli do un 7 alla fin fine secondo me come allenatore simone zaghi è meglio dei sarri a livello complessivo dopo magari sarri saprà più di calcio di simone zaghi questo non lo so però a livello di numeri come prima stagione alla razio un bel 7 non glielo toglie nessuno juventus 4 alla juventus devo dare 4 mi dispiace mi dispiace perché anzi non è che mi dispiace è strano dover dare un 4 cioè un'insufficienza pesante ad una squadra che comunque in champions il prossimo anno è strano è strano doverlo fare però ragazzi allora stiamo parlando intanto della juve intanto della juve cioè della squadra tra virgolette più forte d'italia e una squadra che conclude la stagione in quarta posizione senza aver vinto un cacchio con l'allenatore più pagato di tutti con la col monte ingaggi più alto di tutti ragazzi miei se non è un fallimento questo poco ci manca e poi sono anche impietosi impietosi i numeri se confrontati sono già impietosi di loro i numeri della juve perché stiamo parlando del dodicesimo attacco della serie a ragazzi dodicesimo cioè ha fatto più gol udinese rispetto alla juve ok ma non è finita qui cioè se noi andiamo a vedere il confronto compirlo allenatore scandaloso errore clamoroso di andrea agnelli ad averlo preso cioè allegri è riuscito a far peggio ma non peggio di poco allegri ha fatto meno punti ha fatto meno gol ha preso più gol non ha vinto un cazzo cioè ragazzi ha fatto più sconfitte e meno vittori è fatto meno punti quindi io penso che più di quattro non gli si può dare alla stagione della juve mi dispiace per i juventini ma questo è napoli napoli io gli do un sette e mezzo allora i napoletani sono incazzati a bestia con con il buon spalletti sono incazzati a bestia perché spalletti ha dimostrato per l'ennesima volta di non essere in grado di vincere un cazzo però ragazzi miei cari miei napoletani allora arrivare comunque terzi quando l'anno prima non eravate neanche arrivati in champions io non la vedo una cosa così così negativa poi per carità è brutto è brutto è brutto perché ti vedi ad un passo dallo scudetto cioè con la possibilità di lottarci seriamente e poi casca il palco e questo ovviamente è una cosa negativa una cosa che fa incazzare tutti però insomma una terza posizione c'è 79 punti un ingresso in champions davanti alla juve insomma io non la non la giudicherei come una stagione fallimentare ovvio che tutti vogliono vincere lo scudetto ma ragazzi con spalletti lo scudetto non si vince ne sappiamo qualcosa anche noi interisti ragazzi purtroppo è così inter inter qui avrei voluto dare nove però anche qui io mi fermo all'otto e mezzo allora tanti giudicano questa stagione dell'inter come negativa io non posso c'è allora io ho davanti i numeri dell'inter ragazzi e non si può definire la stagione dell'inter in maniera negativa insufficiente assolutamente la stagione dell'inter è stata ottima ottima no piano è stata molto buona è stata molto buona abbiamo vinto due trofei cosa che non succedeva non so a quanto tempo due trofei minori la coppa italia supercoppa ovvio non abbiamo vinto lo scudetto certo però ragazzi secondo me considerando da come era da dove eravamo partiti con una squadra completamente devastata da cessioni assurde e dolorosissime con un cambio allenatore che sembrava dovesse cascare il mondo insomma io mi ritengo mi ritengo soddisfatto mi spiace per chi non la pensa come me scrivetelo nei commenti ma io mi ritengo veramente soddisfatto di di questa stagione ve lo dico ve lo dico sinceramente ovvio che rompe il cazzo perdere lo scudetto ovvio che rompe il cazzo che l'abbia vinto il milan ma ragazzi il calcio è questo il calcio è questo ok siamo arrivati al milan primo in classifica e vincitore dello scudetto a malincuore a malincuore io al milan devo dare devo dare 10 cos'altro posso dare al milan altro posso dare una squadra che riesce a vincere lo scudetto con pioli in panchina e parliamoci chiaro pioli non è guigno guardiola non è neanche antonio conte pioli un allenatore normalissimo è un allenatore da lazio un allenatore da bologna ha vinto lo scudetto e portiere eccezionale hanno fatto meno gol di noi ma non hanno perso un cazzo di scontro diretto cioè sono stati veramente bravi cioè mi dispiace veramente dirlo mi spiace ammetterlo ma sono stati veramente bravi cioè se noi abbiamo fatto una stagione molto buona loro hanno fatto una stagione ottima c'è un cazzo da dire c'è un cazzo da dire bravi basta non ho nient'altro da dire ma nient'altro da dire e così si conclude il pagellone 25 minuti di video non li avevo mai fatti in vita mia spero che vi sia che vi sia piaciuto attendo ovviamente come detto all'inizio i vostri i vostri commenti i vostri le vostre opinioni e vi saluto spero di fare qualche altro video non so più di cosa parlare perché ormai è finito è finito tutto però ragazzi o qualcosa mi inventerò un saluto a tutti i ragazzi e buona buona serata